Eccoci qua, siamo a conclusione già del Giro d'Italia, possiamo fare un sommario di tutto quello che è successo. Abbiamo organizzato con grande entusiasmo questa tappa con partenza da Mileto. Lo Sporting Club in prima persona, assieme a tutti gli amici, ci siamo prodigati per la realizzazione e far vedere le immagini di una Calabria nuova, di una Calabria più bella, di una Calabria molto sensibile allo sport. Il giorno 7 prima della partenza abbiamo inaugurato il monumento dedicato al ciclismo e più le immagini esemplari del passaggio della Borrancia tra parte le coppie, con dietro l'insegna della cittadinanza onoraria che abbiamo dato a Vincenzo Torriani, padrone del Giro d'Italia nel 1981. In più lo stemma del Giro d'Italia con tutti gli anni in cui è passato a Mileto. L'augurio è quello che nel futuro possiamo riuscire, se Dio ci lascia, ad avere qualche altro tipo di discorso come un arrivo, ma noi ce la giochiamo. Vedremo cosa succederà. Grazie. 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 Grazie.